Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. Coda in A12 in uscita a Rosignano Barriera in direzione Rosignano per traffico intenso. In A11 in direzione Pisa, coda per traffico tra Montecatini Terme e Lucca Est. Coda per la volina 1 tra Calenzano e il BV1 Variante in direzione Bologna. Traffico rallentato in Fipilita e Empoli e il BV di Ramazzone per Pisa in direzione Livorno per traffico intenso. Partenza del Tour de France a Firenze dal 25 giugno, provvedimenti di chiusura al traffico e di vieto di sosta in zona Piazza Santa Croce e Piazzale Michelangelo a Firenze. Fino al 7 settembre per lavori alla linea ferroviaria Traula Lunigiana e Castelluovo Garfagnana, cancellazione di treni e corse con bus per i treni regionali. I canali di vendita sono aggiornati. Muoversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie! Grazie!